Amici di Zelletta, buongiorno a tutti! Oggi vi porto in Africa C'è un direttore di banca che va in ferie Prende, questo è un appassionato dei safari Più e parte va a fare un safari in Africa Arrivato in Africa, con questo fucile O l'hanno a prendere, era un cacciatore lui O l'hanno a prendere i leoni, queste cose qua A un certo punto vede un cespuglio muovese Questo col fucile gli infila la canna del fucile Entra il cespuglio Dar il cespuglio esce un gorillone, arto due metri Gli eleva il fucile, gli spezzano due Dovo chiappa per collo, butta dentro la grotta E sono un culapeore A un certo punto, questo ritorna in Italia Tutto avvilito Sai, di quello che era successo Lui era un direttore di banca Incontra un amico suo E se decide gli dice tutto Cioè, guarda, è successo così, così Sai, è la posizione mia Ma come si fa di qua, di là Se si viene a sapere Cioè, beh, dai, è successo un incidente Ma che vuoi? Tanto il gorilla Il gorilla mica parla Chi lo viene a sapere? Eh, non parla Non scrive Manca una lettera Ha, ha, ha Ma che vuoi? Grazie a tutti.